È stato arrestato dalla polizia di Padova il ladro seriale di materiale tecnologico sulle autovetture. Rubava macchine fotografiche, navigatori satellitari, fino agli occhiali da sole e computer di bordo. Beni del valore di migliaia di euro sono stati ritrovati all'interno del domicilio dell'uomo, in via Wagner a Padova. Ora si stanno cercando i legittimi proprietari per poterli restituire quanto sottratto. In manette Sargio Ghilan, cittadino moldavo di 34 anni. Sì, devo dire che è un soggetto assolutamente abile, con una potenzialità commerciale notevole. Basta vedere i numerosi oggetti, soprattutto elettronici, che sono stati rinvenuti in un'abitazione dove saltuariamente lui si ferma. Si tratta di un moldavo con precedenti di polizia anche numerosi a proprio carico e che era in grado di assicurare un servizio alla numerosa clientela, tant'è che dal controllo soprattutto di WhatsApp che lui aveva in uso abbiamo avuto modo di notare tante richieste del materiale che lui tratta. La merce che noi abbiamo rinvenuto e sequestrato si aggira a un valore di circa 10.000 euro, in più abbiamo sequestrato i soldi in contanti. Che tipo di merce è stata ritrovata nel suo domicilio? Parliamo soprattutto di navigatori satellitari, di altri apparecchi elettronici che si trovano assolutamente nell'abitacolo delle autovetture. Riteniamo sulla base dei primi accertamenti che abbiamo effettuato che il soggetto fosse abile soprattutto nell'impossessarsi illecitamente di materiale elettronico all'interno dell'abitacolo delle macchine. Il giovane è stato notato dagli agenti sabato sera mentre camminava in zona Arcella con in mano uno schermo di iPad. Dai primi controlli è emerso che il Moldavo aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e lavorava con tanti alias. I clienti del ricettatore lo contattavano tramite WhatsApp.